Ciao a tutti gli appassionati di modellismo, benvenuti ancora al Crazy Road. Ci ritroviamo oggi in seconda tappa del Crazy Race 2018. Siamo qui con Ivan Lini, vincitore della prima gara 1 della Brushless. Una domandina, Ivan come ti trovi, come trovi oggi il tracciato e qual è il tuo setup? Allora innanzitutto l'organizzazione è ottima, spero che questo campionato cresca ancora di più. Sulla pista mi trovo bene, è abbastanza tecnica, c'è un grip discreto nonostante la polvere, qualche buca che va bene uguale per tutti. Io uso un setup sempre piuttosto duro rispetto agli altri, mi trovo bene così. Ok, perfetto. Bene dai, allora niente, in bocca al lupo per il proseguo della gara e crepi ovviamente. Ci vediamo poi alla prossima, ok? Ciao a tutti, ciao ciao, grazie.